ragazzi qua mi trovo a montevago alla matrice chiesa madre o dei santi comunque non ho letto bene si vede un po no? sto vicino un po così lo leggete pure voi qua siamo alla matrice di montevago guarda la piazzetta che c'è o c'è un po di vento vento ah non sente più niente va bene comunque se si sente guardate che bella volevo dirvi qua siamo a montevago nei rudini di montevago qualcuno domanda sempre se io ho dei precedenti penali ora io sono vissuto in Santa Margherita da piccolo e non ho avuto mai problemi con la legge poi sono andato in Germania sì sono stato in Germania no in galera in Germania tutti mi domandano ma tu hai precedenti penali io non ne ho ora se da oggi andranno le cose male non lo so comunque fino adesso vi posso rispondere alla domanda che mi fate sempre voi se io ho avuto problemi con la legge no no sono stato in Germania in Germania a lavorare e mi hanno trattato bene o mi hanno trattato come voi che qua poco ci vuole e tutto è un crimine cioè io sono un ragazzo a posto non mi sento di rubare gli altri non ho mai rubato a nessuno e tutti mi dicono lato e tutti mi dicono secondo me sbagliate a darmi del falso a me in un certo senso a dirmi che io sono un galeotto io non ho fatto mai male a nessuno e non cercherò di fare male a nessuno